Vi siete mai chiesti quanto la vostra auto sappia su di voi? Cioè la stessa auto che ti porta da casa a lavoro, da lavoro alla palestra, dalla palestra a quel concerto rock a Bologna che ti piace tanto? Beh, la risposta potrebbe non essere quella che ci aspettiamo, perché anche la tua auto, se è parcheggiata nel tuo vialetto, praticamente ha una copia digitale di te. Se e solo se è una di quelle auto connesse a internet. Che ce ne sono? Occhio al mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno. Alcune auto moderne sono un po' come degli smartphone su quattro ruote, quindi con un computer, con delle app che si connettono ad internet e fanno cose e raccolgono dati sulle performance. Anche dati molto personali. E molto spesso chi ha queste auto connesse neanche si pone la domanda dove finiscono i miei dati, perché la cosa importante è è con il suo internet per l'assicurazione, oppure sto pagando il navigatore così è con il suo internet per fare le cose. Tanto, cosa serve all'auto immagazzinare i dati? In realtà serve. C'è un ecosistema proprio di aziende dedicate a raccogliere i dati. Sono aziende che si stanno specializzando nei dati delle auto connesse. Un settore in rapida crescita che cerca di guadagnare da questi dati in un ambiente con poche regolamentazioni che non governano la vendita o l'utilizzo. Dai produttori di automobili ai fornitori di tecnologie specifiche fino ad aziende di analisi dei dati, che non fanno altro che utilizzare algoritmi avanzati e machine learning per analizzare i dati e arrivare a intuizioni sul futuro, come del resto fanno anche alcune compagnie assicurative con le tariffe personalizzate. E perché dovrebbe sapere questa cosa? Mica siamo celebrità! Giusta osservazione, Piero. Giusta osservazione. Il discorso qui è molto, molto, molto noiosino. Lo so. Però dobbiamo andarci dentro. I dati sono il nuovo petrolio. Gli analisti prevedono che sarà un mercato che varrà dai 300 miliardi di dollari agli 800 miliardi di dollari entro il 2030. E comunque non ti ho risposto. L'utilizzo può essere, come dicevo prima, per le assicurazioni, ma anche per la manutenzione predittiva. Cioè, di solito a tante macchine di quel tipo si rompe questa cosa dopo tot tempo e dopo queste esperienze, a te che hai fatto queste esperienze, ti arriva la spietta che ti dice guarda, potenzialmente questa cosa potrebbe non funzionare più. O anche, molto più banalmente, la prevenzione degli incidenti stradali. Tipo, in quali strade ci sono più frenate brusche, allora lì si capisce che quella strada più probabilmente c'ha dei problemi, che sia per i guidatori, ma anche per la strada stessa. In realtà, fin qui, sembra tutto abbastanza giusto. Però il problema, cioè, la questione, è che comunque l'auto sa troppo. Cioè, il fatto stesso che esistano i dati predispone i dati stessi a un rischio, al rischio di essere violati. Le informazioni raccolti dalle auto connesse possono rivelare dettagli molto personali sulla tua vita, come dove vivi, dove lavori, dove fai shopping e persino le persone che visiti. Quindi, se queste informazioni cadessero nelle mani sbagliate, potrebbero essere utilizzate per scopi malevoli. Le auto connesse sono infatti vulnerabili agli attacchi informatici e i cybercriminali potrebbero cercare di accedere ai dati del veicolo per scopi non così etici come ci si aspetterebbe, non solo per il furto auto, ma anche per un ransomware. Shoshana Zubov dice che se c'è una tecnologia che può essere utilizzata al fine della sorveglianza, sarà inevitabilmente utilizzata per quello. Ora, guardiamo i dati delle macchine. Vi sembra così lontano che in un futuro qualche agenzia di intelligence, qualche polizia, non possa utilizzare questi dati per la profilazione? Anzi, non solo, vi dirò di più. Monitorare i movimenti di qualcuno senza che quel qualcuno sia neanche seguito, perché tanto c'è il GPS. E se fanno questo, chi dice che non potrebbero esserci abusi di potere con conseguente infrazione dei diritti civili? Cioè, il fatto è questo. L'esistenza stessa dei dati permette di usarli sia bene che male. E tornando prima alle assicurazioni, sì, ok, tu fai meno incidenti, quindi tariffi più basse, ma se tu frequenti una strada che loro definiscono ad alto rischio? Come dicevo prima, se quella strada lì scopri che ci sono delle frenate brusche e uno per lavoro deve andarci, allora gli alzi l'assicurazione. Che è logico, concettualmente, ma è incredibilmente poco etico. È ingiusto, se vogliamo. Magari è il guidatore migliore del mondo, però frequenta sempre quella strada piena di matti. Mi puzza di discriminazione questa cosa, pochino. E questa è una cosa su cui noi abbiamo relativamente poco potere, nel senso che il come vengono raccolti questi dati è radicato nell'infrastruttura. Stiamo parlando di quelle auto che lo fanno, non tutte le auto che hanno la centralina con Android fanno questo tipo di connessione, però quelle che comunemente vengono chiamate auto connesse, quelle sì. Una volta che è sale in auto, decine di sensori emettono dati che vengono inviati al computer dell'auto. La porta del conducente è sbloccata, un passeggero è nel sedile del conducente, la temperatura interna all'abitacolo è di 30 gradi centigradi, il tetto apribile è aperto, il pulsante di accensione è premuto, un viaggio è iniziato da questa posizione, quale posizione? E man mano che il viaggio continua, vengono tracciate ulteriori informazioni, la posizione, la velocità del veicolo, se i freni vengono applicati, quale canzone sta suonando sul sistema di intrattenimento, se i fari sono accesi, se il livello dell'olio è basso e tutti questi dati iniziano poi il loro viaggio dalla macchina al produttore dell'auto, alle aziende note come hub di dati dei veicoli. Ora, siccome siamo in Europa, c'è il GDPR, il regolamento sulla protezione dei dati. Quindi, sicuramente, se voi avete comprato la macchina dopo il 2018, durante il contratto, se no, nel 2018 vi deve per forza essere arrivato a comunicazione che vi dà conto di che cosa fanno questi dati. Ecco, siccome siamo in Europa, questa cosa viene fatta per legge, quindi voi avete fisicamente il contratto su che fine fanno i dati, dove vanno a finire e chi li usa. E potreste anche revocare il consenso a certi tipi di utilizzi, perché uno dei primi articoli dice che tu hai il diritto che loro cancellino i dati su di te. Tra l'altro, ve lo dico, giusto for fun, avete anche il diritto di interfacciarvi con un operatore umano, quindi non tramite la stupida interfaccia web che magari non funziona. Quindi noi, in realtà, in Europa, queste problematiche qui ci sono, ma abbiamo tutto il potere di smarcarci da questi pericoli, perché viviamo in un paese dove la privacy è un concetto che ci piace. E avendo come clienti dei cittadini europei, devono anche preservare, secondo questa norma, i dati nel modo più sicuro possibile dalle loro infrastrutture. Ci sono comunque ottimi segnali, perché ci sono produttori di auto che stanno proprio seguendo la strada tracciata da Apple, che ha abbracciato il rafforzamento dei controlli sulla privacy sull'iPhone come strumento di marketing, tipo recentemente Porsche ha annunciato che sta implementando nuovi controlli sulla privacy nel suo SUV-GAIN. In un comunicato stampa che annuncia l'elevazione strategica della privacy dell'utente, il responsabile della privacy di Porsche, Christian Volkel, ha scritto Il cliente ha piena trasparenza e controllo sul trattamento dei dati nel veicolo con semplici controlli per l'impostazione della privacy. Il cliente è al volante. Con la battuta del fatto che il cliente, essendo al volante, può fare lui le cose, eccetera. Quindi sì, magari se hai un'auto connessa a internet e tutte queste cose le sai, tutto bene, ma magari se non lo sapevi hai l'auto connessa, beh, magari l'auto ti conosce meglio di te stesso. Non è niente di drammatico, non è niente di orribile, solo che c'è. Esiste e in quanto tale dobbiamo esserne conscienti. Ma ora io lo chiedo a voi. Voi vi fidate della vostra macchina? Alla fine Kit di Supercar fa anche cose buone, quindi io mi fiderei. Io la chiudo qui. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Nel caso vi chiedo di mettere un mi piace, di condividere questa puntata con i vostri amici, di farla girare a tutti quei guidatori incalliti che hanno paura di questa nuova tecnologia nelle vetture, così gli fate venire ancora più paura. E ora mi taccio, vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata. Informatica, mondo del web. Questo è tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno.